buongiorno buongiorno amici amici della unitredi velletri e buongiorno a tutti gli ascoltatori presenti grazie della vostra attenzione innanzitutto io sono carlo lungarini per chi non mi conosce del coordinatore del gruppo sentieristica vulcano laziale di lariano sono un sentierista ricercatore nel territorio qui dei colli albani docente dell'unitredi velletri per quanto riguarda la materia di geologia e sentieristica del vulcano laziale oggi parleremo di un nuovo nuovo argomento che riguarda l'oggetto di questa presentazione è precisamente la catena del monte artemisio ed il cabreo di velletri allora l'artemisio è una catena montuosa che si estende qui nei colli albani e rappresenta un piccolo tratto del primo grande recinto vulcanico creatosi fra 600 mila e 300 mila anni fa è un tratto del recinto esterno del quiescente vulcano laziale ora e abbraccia vari comuni la catena del monte artemisio abbraccia i comuni di velletri lariano artemisio abbraccia priora e è una lunga catena montuosa di circa undici chilometri che i propri limiti sono dalla via dei laghi precisamente dal passo storicamente chiamato della madonnella alla via tuscolana anagnina nei pressi di monte castellaccio tagliente quell'area lì più o meno fiancheggia tutto quanto eh la via di vivaro e tutta la parte eh l'ariano via ariana fin verso velletri questo un po' il perimetro della catena montuosa dell'artemisio della quale parleremo oggi unitamente alla storia la presentazione di un importantissimo documento appartenente alla città di velletri che secondo me dal punto di vista eh di toponimi storici e sentieristica rappresenta un documento di eccezionale pregio e valore prima di parlare direttamente del della catena del monte artemisio con le sue sette cime di cui cinque principali turisticamente parlando ed altre due un po' defilate che vedremo oggi per la catena del monte artemisio per un totale di sette cime però prima di parlare direttamente di questa grossa montagna eh dobbiamo partire un po' da lontano per capire come si inserisce nel territorio il monte la catena del monte artemisio quindi partirei e presenterei un documento un filmato che ultimamente eh si può trovare anche su youtube ora vado a presentare questo filmato che riguarda un po' fa il il sunto di quanto finora ho detto e abbiamo parlato sul sul vulcano laziale quindi andiamo a vedere il documento buona visione e poi riprenderò con la presentazione voglio parlare di quello che mi riguarda più da vicino quello che vedo dalla finestra di casa per intenderci il complesso vulcanico dei colli albani chiamato anche vulcano laziale o semplicemente castelli romani da bambino quando mi portavano al lago di castel gandolfo e mi dicevano che fosse un lago vulcanico oltre ad immaginare di voler essere il power ranger rosso ho sempre pensato che il lago fosse il cratere principale di un vecchio vulcano che ha eruttato lava per tantissimi anni poi una volta spento e riempito di acqua piovana e con triste rammarico scopro che tantissime persone bambini adulti ad oggi ancora sono convinte che sia proprio così ma non è così non è esattamente così questo per capirci è il lago di castel gandolfo e questo è in realtà tutto il complesso vulcanico di cui ne fa parte ma per capire bene che ruolo hanno il lago di albano e di nemi che a parer mio sono i luoghi più belli e magici della zona c'è da fare un piccolo passo indietro partiamo proprio dalla preistoria anzi da prima si parla di circa due milioni di anni fa in un periodo geologico chiamato pleistocene in quel tempo l'italia era più o meno in questa situazione dove le uniche terre emerse erano la zona delle alpi formatisi dallo scontro tra la placca africana contro quella euro asiatica e dagli appennini innalzatisi per via del blocco sardocorso che si è staccato dalla penisola iberica ha stirato e aperto il mar mititerraneo contro la placca adria che fa sempre parte della placca africana che è questa zona che si incunia nel bacino del mar adriatico proprio questo stiramento ha sottigliato la crosta terrestre sul nuovo litorale tirrenico e ha favorito l'intrusione di magma che ha portato allo sviluppo di molti edifici vulcanici per tutta la lunghezza dell'italia dalla toscana con il monte amiata fino a scendere al vesuvio in campania questi vulcani hanno favorito con la loro attività l'accrescimento di nuovi territori costieri sulle zone tirreniche mentre sul litorale adriatico la conformazione della costa odierna è avvenuta grazie all'avanzamento del fronte degli appennini verso nord est perché ricordiamo che l'italia sta ruotando in senso anti orario con un perno immaginario sulla riguria e che fra milioni di anni l'adriatico non ci sarà più e noi saremo uniti ai balcani da nord a sud i vulcani hanno iniziato la loro attività attivandosi ed estinguendosi in ordine discendente dal montamiata in toscana scendendo per il complesso dei vulsini con il lago di bolsena i cimini con il lago di vico e nel caso del vulcano albano l'attività iniziata quasi contemporaneamente all'altro edificio che possiamo considerare romano di roma nord ovvero l'apparato sabatino dove gli indizi attuali di attività passata sono il lago di bracciano il lago di martignano la solfatara di manziana e di monterano poi scendendo più a sud troviamo le isole pontine ischia e gli altri vulcani campani molto più giovani questi due vulcani hanno iniziato la loro attività circa 650 600 mila anni fa emergendo dal fondale marino costituito da sedimenti argillosi le eruzioni fissurali hanno modellato il territorio incanalando anche quello che all'epoca era un giovane biondissimo tevere chiamato paleo tevere e costituendo il territorio dove ora sorge la città di roma poi non lamentiamoci che i vulcani portano solo morte e distruzione pensiamo che la vastità e il prestigio di quello che fu l'impero romano è stato principalmente grazie ai vulcani anzi vi dirò di più rea silvia figlia di numitovere re di alba longa città situata dove ora è a rocca di papa quindi all'interno del vulcano laziale ingravidata dal dio marte partorì niente po po di meno che romolo e remo il vulcano primordiale dei colli albani era un edificio unico molto più imponente rispetto a come lo vediamo oggi con una base dal diametro di circa 60 chilometri il diametro del somma vesuvio è di circa 15 chilometri raggiungeva un'altezza sul livello del mare di quasi 1700 metri e nella sua prima fase denominata tuscolo artemisio fu caratterizzata da eruzioni subpliniane e pliniane come quelle del vesuvio che distrusse pompei ed ercolano molto probabilmente erano di carattere idromagmatiche cioè il magma incandescente incontrando falde acquifere o semplicemente il soffice terreno argilloso ricco di acqua del sottosuolo innesca esplosioni violentissime per via dei gas che si sprigionano e dell'acqua che evapora velocissimamente rendendo la potenza dell'evento ancora più catastrofico e distruttivo questa attività è durata per centomila anni dove ad ogni esplosione colonne di cenere e materiale piroclastico raggiungevano altitudini di oltre 15 chilometri materiale scagliato nell'atmosfera per poi ricadere per gravità e correre veloci più di 150 chilometri orari lungo le pendici della montagna inondando e travolgendo e distruggendo tutto ciò che si trovava lungo il cammino di questa imponente nube rovente ricadendo a terra ha stratificato il territorio di tufo e in imbrite ovvero cenere compattata dopo 44 mila anni di inattività questa volta riprende più forte di prima con tre eventi catastrofici ultra pliniani con intensità 6 della scala bei in tempi moderni una bei 6 è stata quella del 1883 dove il krakatoa in indonesia è esplosa e la montagna che ospitò il centro dell'eruzione venne completamente polverizzata lasciando posto ad un arcipelago di piccoli isolotti questo evento riportato a pochi chilometri da dove mi trovo seduto ora infatti ha sdraiato la montagna di quasi 700 metri troncando di netto il cono del vulcano primordiale lanciando una montagna intera nell'atmosfera per poi ricadere e inondando la zona di un materiale che questa volta è stato pozzolana rossa che arrivò fino ai confini degli appennini lo svuotamento così repentino e veloce della camera magmatica oltre a creare un cratere di 15 chilometri di diametro lo ha fatto sprofondare in una caldera a forma di ferro di cavallo i cui bordi attuali visibili come rilievi montuosi ricoperti oggi da fittissima vegetazione prendono il nome di tuscolo artemisio trascorrono altri 44 mila anni per entrare nella terza fase denominata delle faete riprendono le eruzioni questa volta più deboli di carattere subpliniano e stromboliano senza grosse esplosioni ma con colate laviche importanti si viene a creare così al centro della caldera formatasi nella seconda fase un nuovo strato vulcano intercalderico dove sulla sua sommità si crea una nuova caldera chiamata oggi campi di annibale che mi dura 4 chilometri quadrati e la struttura è come se fosse una matriosca i punti più alti di questo nuovo vulcano sono i coni di scorie del monte cavo e del monte jano o colle jano che oggi sfiorano i mille metri le colate laviche più importanti dell'epoca furono la colata di capo di bove che ha slabbrato completamente il perimetro montuoso di nord ovest dove oggi sorge frascati ed è arrivato fino all'odierno centro storico di roma all'altezza delle catacombe di cecilia metella tutto ciò si può ancora vedere sulla via appia poco dentro il raccordo anulare dove c'è una cava da dove si estraeva del materiale la selce per costruire le strade con cui è stata pavimentata anche l'antica via appia dal mio amico appio claudio e anche il peperino il materiale con cui sono stati fatti i san pietrini oggi questo sito è un punto per praticare esercizi di arrampicata tra i 200.000 e i 36.000 anni fa dopo un riposino di 37.000 anni ricomincia quella che è l'ultima fase del vulcano laziale quella che ci porta finalmente all'inizio del video cioè ai nostri amati laghi importanti esplosioni idromagmatiche hanno portato allo svuotamento della camera magmatica e quindi al collasso calderico al di sotto di quelli che oggi sono gli attuali laghi di nemi di albano al cratere di valle riccia sotto a riccia valle marciana e del lago fossilizzato di pavona l'incontro tra falda acquifera magma e rocce ha fatto emergere dai fondali di questi crateri imponenti quantità di fango bollente che ha riempito queste depressioni questo fenomeno dei laghi prende il nome mar sono letteralmente dei laghi di fango e in diverse occasioni questo fango è riuscito anche a tracimare al di fuori dei bordi del lago sversando valanghe catastrofiche verso quella che è la zona odierna di ciampino queste colate di fango invece prendono il nome di lar che hanno inondato anche tutto il versante sud della montagna arrivando nelle campagne pontine fino quasi in campagna seppellendo ogni cosa trovasse sul suo percorso verso la fine di questo periodo quindi 36 mila anni fa il fango presente nei laghi si depositò sul fondale impermeabilizzandolo e l'acqua più limpida rimase in superficie fino ai giorni nostri nel corso dei millenni successivi si sono registrate come uniche attività riconducibili al vulcano piccole ebollizioni delle acque dei laghi terremoti di modesta o forte intensità e fratture del terreno l'attività odierna invece è limitata a zone di degassamento alcune anche molto pericolose come capa dei selci sull'appia sente il tipico odore di zolfo alla solforata di pomezia un luogo bellissimo con un lago bianco dovuto allo zolfo un lago rosso per di alcuni microorganismi e alghe che si sono adattati a vivere a quelle condizioni di acidità dell'acqua laghi azzurri polle sulfure canyon fanghi spaccatori della roccia da dove fuoriescono gas come anidride solforosa e anidride carbonica ancora più a sud sul mare vicino ansio c'è la riserva naturale di tor caldara dove anche qui le rocce si colorano di giallo per via del degassamento di anidride solforosa proveniente dal sottosuolo grazie a tutti i due laghi rimasti oggi sono talmente immersi nella vegetazione circondati da centri abitati che non ci si rende conto che si trovano quasi a 300 metri sul livello del mare e che fanno parte di un sistema vulcanico molto più grande di quanto si possa pensare nel distretto del vulcano laziale ci sono 16 comuni con quasi 300.000 abitanti paesi come marino grotta ferrate e frascati si trovano sul bordo ceduto del vulcano primordiale a seguire in senso orario sulle pendici della catena tuscola artemisia c'è monte porzio catone monte compatri e rocca priora alle pendici a sud ci sono lariano e belletri sulle sponde dei laghi ci sono nemi genzano di roma a riccia e albano mentre nel bel mezzo del cratere del vulcano all'interno della caldera delle faete come se scendesse una collata lavica c'è rocca di papa è inutile descrivere la bellezza di questi posti ci si deve andare e basta è il mio posto felice oltre ad essere fortemente sfruttato abitativamente essendo a 20 minuti dalla metroa di roma incontro con la natura è garantito sempre e comunque chi vuole rilassarsi sulle spiagge dei laghi fare un giro in canoa passeggiare per i boschi di querce acidi e digli andare in mountain bike sui tantissimi sentieri presenti andare a godere del panorama su roma dai diversi punti di belvedere sparsi in tutti i paesi in particolare il belvedere del monte cavo dove si ammira lo spettacolo dei due laghi per non parlare del fresco nelle sere d'estate dove a roma ci si scioglie se andate a nemi portatevi sempre una felpa o ve ne pentirete l'inverno è frequente la neve non è raro vedere la macchina di qualche pendolare portare neve sul tetto in centro a roma oppure andare a vedere monte cavo e nevato quando a roma c'è giusto un po di pioggia il cibo è ottimo e caratteristico quando vuoi fare merenda non c'è niente di meglio che un bel panino con la porchetta con vista lago ad ariccia e del buon vino il terreno è così ricco di minerali e nutrienti di origine vulcanica che fa sì che si producano dei grandi vini anche piuttosto sottovalutati come il frascati doc e il marino doc e grazie alle cantine scavate nel tufo ricco e trasudante radon l'invecchiamento in condizioni ottimali è garantito aggiornamento dell'ultima ora come per i più importanti vulcani attivi in italia e nel mondo la prevedibilità delle eruzioni ha come indice principale il rigonfiamento alla deformazione della montagna o del sottosuolo qui è stato registrato un innalzamento di 3 mm l'anno che può arrivare anche a 7 mm durante le crisi sismiche come negli anni 90 qualche giorno fa diverse scosse di bassissima intensità hanno coinvolto la zona di lariano facendo avvertire qualche tremore in tutta roma sud erano scosse veramente lievi ma che comunque ci hanno fatto ricordare che c'è un vulcano quiescente alle porte di roma bene bene amici ecco riprendiamo allora il nostro cammino per la conoscenza del monte artemisio andiamo con la presentazione bene allora andiamo a vedere dopo questa presentazione del in generale del vulcano laziale l'area cogli albani andiamo a vedere come l'artemisio questo pianeta di importanza naturalistica geologica e storica si inserisce nel contesto generale del vulcano laziale ecco questo che vedete è praticamente l'evoluzione delle tre fasi vulcaniche qui dei colli albani la prima la nella quale si è formato il grande recinto artemisio tuscolano datato fra 600.000 e 300.000 anni fa successivamente un secondo vulcano interno attiva la seconda fase vulcanica databile fra 300.000 e 200.000 anni fa successivamente nella terza fase chiamata fase idromagmatica datata fra 200.000 e 25.000 anni fa anche se alcuni studi recenti l'hanno elevata intorno al 10.000 anni fa vi è stata la formazione con grosse esplosioni di vapore del dei laghi dei colli albani e mi riferisco al lago di albano lago di nemi lago di valericcia attualmente prosciugato il lago turno attualmente prosciugato e vari laghetti minori sparsi nell'area tuscolano casidino prenestino ora in questa grande evoluzione geologica storica dove si inserisce la catena del monte artemisio ecco qui la catena del monte artemisio è questo tratto qui da via dei laghi a via tuscolana via tuscolana dopodiché si innessa tutta l'area tuscolana con frascati monte compatri e così via ma il monte artemisio la catena del monte artemisio è questa con tutte queste sette cime da monte spina a monte tagliente dalla via dei laghi alla via tuscolana andiamo adesso ad analizzare le varie caratteristiche della catena montuosa dell'artemisio ecco questa immagine che vedete non è altro che un ripresa satellitare del vulcano laziale vedete il primo recinto esterno artemisio ecco l'artemisio tuscolano la seconda fase e la terza fase è l'area dei laghi ecco l'artemisio la catena dell'artemisio questo tratto qui questo pezzetto qui della lunghezza di circa 12 chilometri ecco questa è una foto aerea del satellitare questa è una foto presa dall'istituto oesa ente spaziale e l'artemisio dov'è eccolo qui da monte spina questo tratto qui a via tuscolana questo tratto qui è la catena dell'artemisio con le sue sette cime di cui cinque turisticamente principali e due relativamente minori turisticamente parlando questa è la disposizione delle varie città dei golli albani ecco vedete questo qui è il monte artemisio velletri lariano attualmente le scime del monte artemisio hanno un proprio nome ma dal mille questo ehm i toponimi moderni ci sono dal da quando l'istituto geografico militare ha iniziato a denominarli dal mille ottocento sessantuno ma prima già in epoca del dei latini e dei romani queste aree avevano nomi diversi avevano toponimi diversi e erano suddivise l'area dei golli del del vulcano naziale tratto monte artemisio era suddivisa in quattro aree il versante sud verso velletri era l'area del peschio la il versante verso eh Rocca di Baba attuale Vivaro era l'area della faiola faiola viene da faiola per le grandi faggete che erano in questo tratto area ariano dove c'era eh l'area del castello d'Ariano quindi area ariano area algido la parte verso via tuscolana algido perché già in epoca latina e romana era un'area fredda e molto umida qual è oggi considerate che attualmente la la differenza termica fra Rocca di Papa e l'area di Vivaro sta tra i cinque e sei gradi quindi una grossa escursione termica i romani già avevano capito che stare a un'area particolarmente umida e fredda e la va denominata algido ecco questa qui è una fotografia bella foto di tutta la catena del monte Artemisio con le sue sette cime di cui cinque principali e due defilate lateralmente ma quali sono queste queste cime andiamo a vedere inizia da qui dall'area del via 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 dei laghi passo della madonnella come veniva definito già nel 1700 monte Spina altitudine settecentotrentuno successivamente qui abbiamo la cima Artemisio che dà il nome a tutta la catena questo è il maschietto dell'Artemisio come viene denominato monte Artemisio altitudine 812 metri monte dei Ferrari monte dei Ferrari 886 metri monte Peschio è quello la cima più alta della catena dell'Artemisio è tutto questo tratto qui abbraccia tutto il peschio tutta quest'area qui monte Peschio con i novecentotrentanove metri successivamente qui abbiamo il maschio d'Ariano dove ci sono i resti dell'antico castello medievale altitudine ottocentonovantuno metri più in basso qui vediamo colle del vescovo e qui giù vi è in prossimità della via tuscolana monte Tagliente ecco le cime del monte Artemisio vediamo qui su questa cartina vedete monte Spina settecentotrentuno metri maschio d'Ariano ottocentododici metri monte dei Ferrari novecento qui riporta novecentodue ma in realtà sono novecentotrentanone novecentotrentanove eh metri di monte Peschio monte dei Ferrari novecentodue colle del vescovo maschio d'Ariano e qui giù monte Tagliente sono una due tre quattro cinque sei e sette ogni cima ha una sua storia e andiamo a vedere cosa possiamo trovare attualmente su queste varie cime qual è la loro storia quale testimonianze ci arrivano dal passato e cosa possiamo vedere una volta salite su le rispettive cime Montespina settecentotrentuno metri qui nel 1744 era insediato una parte dell'esercito ispano napoletano il quale nel corso della guerra per la successione del trono d'Austria ha combattuto contro l'esercito austriaco insediato tra nemi e i sottostanti pratoni del vivare quindi qui su Montespina c'erano tutte le varie c'erano un insediamento con una delle batterie di cannoni dove gli spano napoletani sparavano a valle verso Vivaro e verso Colle Tondo che era di fronte qui sopra qui per raggiungerlo anche un po' impervio Montespina e c'era questa postazione dell'esercito ispano napoletano scendendo da Montespina e passando per un sentiero nel quale durante la guerra di Velleti nel 1744 qui facevano salire i pezzi d'artiglieria verso cima Artemisio gli spano napoletani portavano su i pezzi d'artiglieria scusate da qui da da questo passaggio si raggiunge la cima che è il del nome appunto c'era Artemisio a tutta la catena montuosa l'intera area è molto interessante poiché è stata identificata dagli esperti della sovrintendenza archeologica per l'area metropolitana di Roma nel 2014 come probabile localizzazione del castello medievale della faiola sul monte Artemisio sulla catena del monte Artemisio vi erano in epoca medievale due castelli non uno come molti credono il castello della faiola il castello del maschio d'aria sono visibili qui sul monte su cima Artemisio resti molto interessanti di diverse epoche come parti di cinte murari e grotticelle e grotte pericopero di animali e persone strutture di probabile uso culturale e religioso vi è anche io l'ho visitata è visitabile una bellissima cissena sotterranea per la raccolta dell'acqua piovanna probabilmente era la cisterna del castello con una particolare un particolare soffitto a con la volta a botte e decorato a gratticcio nonché i resti di trinceri salenti alla seconda guerra mondiale per chi qui su cima Artemisio è passata alla nella notte del 31 maggio 1944 eh tutta quanta la la divisione della trentesesima ranger americana la quale anziché ehm tentare un'entrata a belletti con il rischio di combattere direttamente contro l'esercito tedesco ha pensato bene di scavalcare la montagna dell'Artemisio passando per cima Artemisio e in poco tempo in una sola notte raggiungere via di Vivaro e verso Roma sarebbe stato un passaggio molto più facile. Monte dei Ferrari 886 metri il toponimo suggerisce le lavorazioni di metalli infatti proprio qui nel 2013 le attività di scavo degli archeologi dottoressa Michela Engle e il dottor Federico Rolfo individuarono un importante insediamento d'altura inquadrabile tra la tarda età del bronzo e ottavo secolo avanti Cristo ben che altri ritrovamenti litici testimoniano la frequenza umana già nell'eneolitico 3500-2200 avanti Cristo e ritrovamenti di utensili in metallo come un'asce in rame e resti di fusioni fanno ipotizzare proprio qui su Monte dei Ferrari una primordiale lavorazione dei metalli. Al pendici è presente l'omonima fonte periodica e la colata lavica che è possibile risalire facilmente ma con molta attenzione dalla quale si può apprezzare un panorama mozzafiato verso la pianura pontiva. Presente alle pendici di Monte dei Ferrari una piccola necropoli di con due cavità principale e due e quattro cavità accessorie minori. Monte Peschio il punto più alto dei gol della catena dell'Artemisio 939 metri con il suo e la cima più alto dell'Artemisio. Da qui si transita anche per realizzare tramite il sentiero CAI 519 la traversata tra il versante sud e nord della catena montuosa. A mezza costa sono presenti i resti del monastero italo greco basiliano di San Bartolomeo al Peschio che per molti anni è stato dipendente dell'abbazia di San Nino a Grotta Ferrata con l'omonima fonte periodica di San Bartolomeo. È presente qui la seconda colata ladica di difficile risalita. Maschio d'Ariano 891 metri. Importantissimo luogo turistico che richiama ogni anno moltissimi visitatori ed escursionisti. Salendo lungo il sentiero CAI 520 e raccordo 523 si incontra la necropoli del Maschio d'Ariano con molte tombe di diverse epoche sia a camera singola che a doppia. Visibili sulla sommità i pochi resti del castello medievale. Andiamo queste sono le prime che ho trattato adesso sono le prime cinque e cinque cime turisticamente interessanti. Successivamente ne abbiamo due che è il Monte del Vescovo e Monte della Iente che sono più distante e distaccate qui dal Maschio d'Ariano. Cone del Vescovo 775 metri. Sulla sua ammita a seguito di riniezioni archeologiche condotte tra il 1999 e il 2002 successivi hanno rilevato la presenza di un edificio medievale costituito da due ambienti del quale a tutt'oggi sono visibili solamente sparuti i resti. Alle pendici qui di Colle del Vescovo vi è la fonte Donzella e dalla quale è stata prelevata l'acqua la prima acqua che venne portata all'Ariano ed è presente una interessantissima ed importante necropoli barra villaggio di Vescovo con ben 23 cavità. 23 tombe inizialmente ma che poi sono state utilizzate nel corso dei secoli per altri scopi costituendo anche un villaggio rupesto di abitazione. Successivamente abbiamo il Monte da Iente con 634 metri. Transitando per Passo Broscione alle pendici dell'omonimo Colle il sentiero Cai 518 si arriva al nascosto e poco conosciuto sentiero da Iente percorrendo il quale si può raggiungere la cima del monte per poi ridiscendere e arrivare alla Vescolana Ragnina e raggiungere Monte Castellaccio. Oggi attualmente c'è una cava in disuso di Lapillo ma Monte Castellaccio è stato il luogo probabile dell'antica città di Algidum costruita a controllo del passo dell'Algido importante luogo di transito da Roma verso sud e viceversa. La bellissima catena montuosa dell'Artemisio grazie alla presenza dei sentieri del club alpino italiano manutenuti e sufficientemente ben indicati dall'opera manutentiva dell'ente parco regionale dei Castelli Romani può essere percorsa e visitata sia lungo tutto il crinale longitudinale da via dei laghi a via di Scolana Ragnina salendo sulle sue sette cime e sia attraversandola dal versante sud Velletri Lariano al versante nord Pradoni del Vivaro Rocca di Papa oppure percorrendolo per tutto il suo pericolo alla base. Veniamo ora a parlare di un altro documento molto importante per Velletri un documento secondo me di inestimabile valore sia dal punto di vista storico ma anche dal punto di vista dei toponimi che ci permettono di conoscere sempre meglio la catena montuosa dell'Artemisio. Il Cabreo di Velletri di Giovan Battista Nolli. Cos'è il Cabreo di Velletri? Innanzitutto la parola cabreo deriva dal latino cabreum e tale termine indicava gli inventari dei beni delle grandi amministrazioni ecclesastiche signorili e l'insieme dei documenti che li formavano mappe, elenchi dei beni mobili e immobili, dei diritti e delle servitù, del valore della proprietà e mappe delle singole particelle. Questi cabrei, questi insiemi di carte e di mappe venivano commissionati da famiglie nobiliari, da enti ecclesiastici, da enti pubblici come i comuni e in parte per chiarire i confini dei propri possedimenti e dei rapporti giuridici con i confinanti, eredi o istituzioni, in parte per impedire usurpazione dei tali beni inventariati. Inizialmente la realizzazione di questi cabrei, di questi insiemi di documenti e di mappe era affidata agli architetti. Successivamente nel Settecento tale incombenza era assegnata anche ai geometri che provvedevano con le misurazioni a rilevare gli esatti confini di ogni bene ed anche le estensioni di queste proprietà attraverso misurazioni effettuate con le antiche unità di misura. Anche Velledi ha avuto questo suo cabreo. Allora, dopo la battaglia di Velledi tra gli austriaci e gli spano napoletani 1744 per la successione del trono d'Austria e a seguito delle continue liti con i proprietari confinanti, tra cui Frangipane e Marchesi di Nemi, si decise di far eseguire le rilevazioni catastali delle stesse proprietà comunali. Scusate. Ora, questo insieme di mappe è stato realizzato da Giovan Battista Nolli tra il 1752 e il 1756. Successivamente la morte di Giovan Battista Nolli, il suo assistente Angelo Sani, mi sembra proprio che si chiami così, nel 1760 completò l'opera, completò questo cabreo e venne divulgato e attuato, utilizzato dal comune di Velledi. Ecco qua. Fortunatamente il documento che oggi è il documento originale conservato presso l'archivio di Stato di Roma è stato individuato in vendita, pensate su alcune bancarelle a Roma, vendevano una copia di questo cabreo e il comune di Velletri pensò bene di farci predizione, di presentarlo al pubblico. È stata una cosa buona, a differenza di e molto spesso di cose che restano nascoste negli archivi dei ricercatori. Questo è stato portato alla comune conoscenza dei cittadini di Velletri. Ecco, con la casa editrice Artemide è stato pubblicato il cabreo di Velletri, sottotitolato appunto e descrive vigne e boschi casali del cadasso settecentesco appunto di Giovan Battista Nolli. Ora, questo cabreo di Velletri è un, essendo mappe dell'epoca del 1700, è un documento importantissimo per quanto riguarda la conoscenza del territorio di Velletri, ma soprattutto anche della catena dell'Artemisio, perché nelle varie mappe vengono trattate le varie parti dell'Artemisio con toponimi di luoghi che oggi sono andati scomparsi, non ci sono più, fontanili che non ci sono più, strade scomparse, sentieri, tracce di reperti archeologici oggi scomparsi e questo è trattato nel cabreo. Andiamo appunto a vedere quali parti dell'Artemisio sono descritte in questo cabreo. Allora, in totale il cabreo è costituito dal frontespizio e da 29 tavole, tutte tavole disegnate, colorate ad acquarello e copertina. È veramente, se vedete le carte, è un'opera d'arte. Il cabreo di Velletri è veramente un'opera d'arte di valore, come ripeto, inestimabile. Questa è la copertina del libro che è stato presentato qualche anno fa. Se lo trovate, siete fortunati perché credo che sia estinto, non sia più negli elenchi in vendita. Comunque potete provare a cercarlo presso una nota libreria specializzata qui di Velletri. Ecco, questa che vedete è la tavola, è proprio la parte completa del 1760 di Angelo Sani che è completato l'opera. Aurel Cabreo descriveva non la parte cittadina di Velletri, ma descriveva tre zone e precisamente la faiola, ne abbiamo parlato prima, l'area delle comunanze, la parte centrale del Monte Artemisio che oggi è la contrata comune e successivamente verso destra tutta l'area del Lariano. Vedete c'è tutta questa descrizione sopra con le varie mappe e sotto la descrizione, la leggenda di queste mappe. Poi ogni mappa veniva descritta in un particolare memoria. Ecco, quali sono di queste 29 tavole quelle più interessanti per conoscere gli antichi toponimi dell'Artemisio di Velletri? Le tavole che possono esserci utili per raggiungere questo nostro scopo, mappe come ripeto sentecentesti, con toponimi storici sentecentesti, sono la 10, la 12, la 13, la 14, la 15, la 16, la 17, 18, la 21, 22 e 25. Io mi sono andato ad analizzare tavola per tavola cosa c'è di interessante, di insolito che oggi è andato scomparso ma che a noi può risultare utile per la conoscenza della nostra amata montagna. Andiamo ad analizzarle, vediamo un po'. Allora ecco, già questo è una, ora faccio un escursus di tutte queste tavole, questa è la tavola la 10, vedete com'è fatta, è tutta dipinta ad acquarello e completata a china con le ombreggiature, tutta la varia descrizione dei luoghi, dei toponimi, dei fontanili, dei resti archeologici, addirittura in alcuni casi delle neviere, ma adesso trattiamo la parte Artemisio, vedete, faccio un piccolo rapido escursus per poi andare a vedere i toponimi scomparsi. Questa è la tenuta di Lariano, una parte, leggo qui a sinistra la descrizione, questa ancora tenuta di Lariano. Guardate la precisione, la curatezza dei particolari, questi che vedete sono tutti le piante, gli alberi, queste sono le strade, gli incroci, le alture ombreggiate che ci danno appunto il senso di altura, l'indicazione geografica, T sta per Tramontana, verso nord. è veramente un documento artisticamente stupendo e poi, come ripeto, utilissimo per conoscere il territorio della nostra Velletri, area montuosa, Paiola, Comunanze e Lariano. Ora, grazie a un lavoro della dottoressa Simona Zani, la quale ha preso tavola per tavola e siccome in alcuni punti non si leggeva bene, perché capire anche le scritture antiche del 1700 scritte a penna d'oca a volte risultava difficile, ecco la dottoressa Zani ha fatto un lavoro incomiabile, ha elencato tutto ciò che è descritto tavola per tavola. Ora, vedete, le tavole qui inizia con un frontespizio, tavola 1, 2, 3, 4, 5, tutto ciò che è descritto nelle varie tavole. Però andiamo a vedere quelle che riguardano il Monte Artemisio. Andiamo alla tavola, qui, la tavola 10. Alla tavola 10, cosa c'è di interessante da vedere? Quali toponi sono interessanti? Alla tavola 10 troviamo strada delle scimate. Andiamo alla tavola 10. Ecco qua, la tavola 10, 8, 9, 10. Strada delle scimate. Ora, voglio dire una cosa, chi conosce un po' più o meno il Monte Artemisio ha sempre sentito parlare delle varie fonti, dei vari luoghi, la fonte Marcaccio, la fonte Turano, la fonte Donzella, la fonte Acquavalomba, il Castello Dariano, Faiola. Però qui andiamo adesso a vedere dei toponimi che molti di voi sicuramente non conoscono, perché sono toponimi andati perduti. strade, fontanili che non ci sono più. Ecco, vediamo qui, strada delle cimate. Io non l'ho mai sentita, benché esperto di Artemisio e di Senteristica. Sempre alla tavola 10. Fontana Montespina, quindi ci indica qui c'era un fontanile. Fontana dei Ferrari. Ora bisogna vedere perché qui, essendo una sorgente d'acqua che stilla tra le rocce, qui mi si parla di Fontana dei Ferrari. Attualmente c'è una sorgente tra le rocce. Anticamente, non so, qui si parla di Fontana Ferrari. Probabilmente nel Settecento c'era un punto di raccolta acqua, chi lo sa. Poi, sempre al punto H andiamo, Muro Antico. Ecco, qui ci arriva un'indicazione già di presenza, testimonianza archeologica. Muro Antico, guardate qui, poi, sempre alla 10, sorgente d'acqua alla grottaccia delle Comunanze. Cosa? Doponimo mai sentito. Andiamo avanti, alla tavola 12. Alla tavola 12 ci troviamo, ecco, questa è un'informazione strada del Castello Dariano. Poi, quest'altra, quest'altro doponimo particolare, pilozza incavata nel sasso vivo in forma quadrata sulla detta costa di Diozzi. La pilozza incavata, qui, dovete sapere che nei luoghi dove si faceva pascolo e mancava l'acqua, gli antichi scavavano i vari blocchi di pietra di basalto molto spesso, le scavavano in modo che queste pilozze si riempissero di acqua piovana e poteva essere utile per l'abbeveraggio delle bestie. Quindi, al punto C della tavola 12, è riportata una pilozza incavata nel sasso vivo. Questa è un'indicazione. Qui poi abbiamo, sempre alla 12, strada del sasso, una strada che bisogna vedere qual è l'identificazione. Ma andiamo avanti, andiamo alla tavola 14. Alla tavola 14 troviamo Fontana del Favo. Non so quanti di voi già conoscono Colle del Favo o addirittura la Fontana del Favo. Io frequento queste aree e la Fontana non c'è, è scomparsa. Probabilmente qui c'è un'antica sorgente. Strada che conduce alla Fontana del Favo e del Bucco. Il Bucco è un passaggio che sta sotto passo Broscione verso, che ci porta continuando la strada fin verso la Tuscolana. Poi, cosa abbiamo alla 14? Ecco, quest'altra, questo toponimo interessante e curioso. Esito di vento sotterraneo per un sasso vivo alle fossate. Ecco, le fossate è un'area dove ci sono delle gallerie di captazione sotterranee, praticamente delle lunghe gallerie scavate dal tufo per prendere l'acqua che gocciava dalle pareti e dalle soffitti di queste gallerie per la produzione dell'acqua in natura. Quindi qui si dice esito di vento sotterraneo. Molto probabilmente qui in qualche galleria vi era una seconda uscita nella quale qui si incanalava del vento, quindi dava questo fenomeno particolare che oggi per noi è scomparse. Qui addirittura ci dà indicazioni di tre sorgenti che formavano la Fontana detta del Ballone. La Fontana del Ballone sta qui all'Ariano e queste tre sorgenti non sappiamo quali sono, ma nel Settecento vedete che vengono riportate. Andiamo adesso alla tavola numero sedici. E qua è veramente una fonte inesauribile di toponimi storici. Voi avete sentito parlare della Fontana del Turano, ma anticamente non si chiamava Turano. Alla tavola sedici troviamo Fontana Tavola sedici punto L Fontana bocca torta, Fontana di Vetturano. La Fontana di Urano antichamente si chiamava Vetturano. Quanti lo sanno questo? Ci arriva un'informazione dal Settecento. Andiamo avanti. Tavola 17 Tavola 17 Strada detta Val di Papa che si unisce a quella del Ballone. Anche questa strada detta di Val di Papa io non lo so, ho sentito parlare di Fontana di Papa ma Val di Papa, io non l'ho mai sentita qui all'Ariano. Poi sempre alla sedici, sempre alla sedici Grotta di Marcaccio. Qua sarà, c'è la fonte Marcaccio. Ma la grotta di Marcaccio dove sta? Non lo sappiamo. Fontana di Boccatorta, sì questa la sappiamo. Fontana di Boccatorta che sta lì verso Tevo. Andiamo avanti. 18 18 Punto B Via dei Canepinari Mai sentita. Andiamo alla Tavola 21 Tavola 21 Abbiamo Fontana del Pellone Fontana del Pellone Fontana dell'Arcione Questa pure Fontana dell'Arcione Chissà quale sarà. Ecco. Come vedete amici miei qui il il cabreo di Velletrici da tutte queste informazioni. È una fonte inesauribile di toponimi antichi del Settecento che a noi potrebbero tornare utili per fare una ricerca più approfondita sui luoghi però il cabreo di Velletri ha un una lacuna e qual è questa lacuna? Voi dobbiamo sapere che siccome il cabreo di Velletri ha trattato l'area di Faiola, Comunanze e Ariano ha trattato però solamente le parti eh le parti eh che riguardavano il territorio del comune di Velletri vi è una parte tutta l'area della del peschio che siccome apparteneva allo stato della chiesa, alla diocesi lì il Nolli non ha trattato proprio il territorio quindi pensate se tutta l'area del peschio fosse stata analizzata, trattata e documentata dal Nolli quanti altri toponimi sarebbero usciti utili alle nostre conoscenze della catena montuosa dell'Artemisia io qui signori avrei terminato ecco questa è la fotografica la la l'immagine di dei luoghi di interesse del cabreo di Velletri Faiola, Comunanze e L'Ariano vedete quest'area bianca? quest'area bianca è la grossa tenuta del peschio appartenente alla chiesa della quale Nolli non ci ha proprio messo mano perché non era di sua competenza non apparteneva al territorio del comune di Velletri. Io vi ringrazio per la vostra cortesa attenzione credo sia stato molto interessante questo mio intervento e ci risentiamo prossimamente per una nuova avventura qui per la conoscenza nel territorio al ventuno di febbraio lunedì quando tratterò proprio i sentieri e i siti turistici dell'Artemisio vi accompagnerò a visitare l'Artemisio con tutte le sue testimonianze geologiche naturalistiche archeologiche e storiche di interesse che è possibile visitare tramite gli appositi sentieri del parco regionale Castelli Romani. Grazie della vostra attenzione un grande saluto dal vostro Carlo Lungarini. Grazie. Grazie. Grazie.